buongiorno ragazzi buongiorno da scommesse matematiche buongiorno da max math finalmente il video del fine settimana come vi avevo già accennato sul video precedente questo non può essere devoluto gratuitamente mettiamo questo termine da parte di scommesse matematiche data la sua complessità e i tempi dedicati ma adesso che vedete il video capirete il perché voi ovviamente se volete anzi dovete rubacchiare insomma dal video fatelo tranquillamente e altra premessa veloce veloce questo video è stato creato a quattro mani non solo da me ma bensì anche da salvatore antonini chi è salvatore antonini è un iscritto del canale una persona che sto conoscendo una persona stupenda una bravissima persona e mi ha mandato un suo progetto che era appunto un sistema di uno più gol e x più gol in questo caso era stato creato su tre partite singole senza una combinata più che altro era una combinata giustamente virtuale cioè che comunque una partita che andava bene andava a coprire il 50 per cento della seconda da calcoli effettuati non male però mi chiese giustamente mi ha chiesto giustamente salvatore guarda max vedi se riesce a creare un qualcosa un ammortizzatore qualcosa di utile che nel medio e lungo periodo non vada a creare ovviamente dei gap e dopo parecchi studi ho capito che il sistema era quello di creare di prendere due partite entrambe investire su uno più gol e x più gol e combinare fondamentalmente tutti gli esiti quindi creando quattro combinate questa è stata la procedura io l'ho inviata poi ovviamente a salvatore antonini che mi ha dato l'avvallo contentissimo così mi ha detto e mi ha detto che potevo anche insomma fare il suo nome sul video io ci tengo perché insomma sta diventando un carissimo amico ma anche una persona veramente con una bella zucca come si suol dire quindi è doveroso è doveroso però bella questa cosa no amici miei che comunque si cominci a creare anche quella no quell'affinità o quell'interscambio di idee di progetti ce ne sono delle altre me ne avete mandato anche delle altre abbiate pazienza ragazzi prima o poi le vedo insomma me le sto mettendo da parte tranquilli non me le perdo detto ciò passiamo velocemente al sistema di oggi allora l'avete visto sistema 1 più gol e x più gol in quattro combinate p1 sta identificare partita 1 che poi lo ritrovate qua ovviamente in quest'area e p2 sta identificare partita 2 va bene molto semplice ora ho verificato che le partite da prendere in questione a prescindere dalla partita in sé per sé conosciuto o meno conosciuta siano partite per le quali il segno 1 non deve star sotto all'1.5 mettiamola così ovviamente può arrivare anche a un 2.2 l'obiettivo che ovviamente questa squadra che gioca in casa o vinca o al massimo deve pareggiare certo non deve perdere perché il sistema di per sé copre la vittoria in casa e il pareggio bene qui ci sono due coefficienti che ho preso da da william hill in questo caso dove abbiamo trovato una partita che era che il coefficiente dell'1 più gol era pagato a 3.7 e l'x più gol a 4.33 poi ho trovato una seconda partita dove il coefficiente era pagato a 3.9 e il della vittoria più gol ovviamente e il pareggio più gol era pagato 4.8 più gol si intende ovviamente che entrambe le squadre segnino va bene quindi in questo caso con l'x abbiamo tutti gli esiti x a favore tranne lo 0 a 0 questo è chiaro mentre nel segno 1 abbiamo tutti gli esiti a favore purché la squadra che gioca a favori casa faccia un gol ok poi se finisce 10 a 1 a 9 va bene no come si suol dire detto ciò a questo punto chiaramente devono essere creati degli incroci cioè in questo caso l'incrocio è 1 più gol della partita numero 1 con 1 più gol della partita numero 2 e lo vedete qua eccolo qua ok questa partita 1 dove c'è scritto 1 più gol con partita 2 dove c'è scritto 1 più gol quindi vi serve anche come va temer qui troverete partita 1 con 1 più gol con partita 2 x più gol poi la partita 1 con x più gol e 1 più gol la seconda partita e a finire insomma troverete ovviamente la quarta combinata che è partita 1 x più gol e partita 2 x più gol quindi sono state create tutte le combinazioni va bene l'investimento singolo ve lo scegliete voi ovviamente chi c'ha sta fortuna ben venga partiamo da 2 euro perché comunque gli utili sono molto alti partendo da 2 euro lui già fatti i calcoli qua ragazzi e voi come al solito sapete bene che dovete andare a interagire con le celle gialle quindi la ci sarà una interazione all'inizio della stringa che è vista che poi non toccherete più perché ovviamente poi le rivalutazioni le fa direttamente il software voi avvertite il software che volete iniziare giustamente con 2 euro e il software vi dice ok adesso però qui inserisci i coefficienti che hai trovato delle due partite va bene e lui già ci dice chiaramente qual è il coefficiente finale in combinata combinata 1 il coefficiente della combinata 2 il coefficiente della combinata 3 e il coefficiente della combinata 4 che in questo caso è un po più alto perché oggettivamente i due coefficienti con x più gol sono più alti va bene benissimo avendo investito 2 euro il nostro caro software ci dice nella combo 1 ovvero quella dove metti la prima partita 1 più gol e la seconda partita 1 più gol devi investire 3 euro ok nella seconda in questo caso ti dice di investirne 2 poi 2 e poi 2 va bene questa è la procedura e ovviamente già ti sta dicendo che alla fine avrei avuto un investimento di 9 euro quindi totale investimento 9 euro è giusto che sia così qui metterete semplicemente il nome della partita cioè se fosse se oggi gioca roma parma voi qui non fate altro che scrivere roma scritto tutto maiuscolo aspettate che c'è il blocco lungo eh 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 mannaggia roma sotto parma va bene qui metterete la seconda partita va bene juve torino e così via potete scrivere anche o cloma non contro non so chi o giusto no l'obiettivo è ricordatevi sempre prendere i coefficienti con quei parametri che vi ho dato cioè la squadra in casa e quindi segnate però la squadra in casa non deve avere un coefficiente sotto l'1,5 altrimenti questi parametri sballano e non rientriamo nei parametri di ritorno nella fase eh del medio e lungo periodo ok tutto qui poi ribadisco se voi credete che una squadra in casa è pagata a 3 e la squadra fuori casa è pagata a 2 ma siete sicuri che vince quella in casa farete ovviamente eh qui troverete il coefficiente dell'1 più gol che sarà pagata a 8 con la stupidaggine metterete a 8 ovviamente cambiano anche i calcoli qua i coefficienti va bene eh torniamo indietro in questo caso non ci interessa 3,7 che sono coefficienti abbastanza reali anche se questi normalmente sono un po' più alti però non importa meglio così anzi meglio se non sono più alti meglio detto ciò allora eh lui ci dice quindi di creare queste combo noi andiamo a creare queste combo e ovviamente in questo caso metteremo attesa perché perché adesso dobbiamo attendere l'evento di queste queste combinate no di queste due partite che si intersecano eh tra di loro nulla più eh se ovviamente le cose sono andate bene dobbiamo semplicemente verificare quale combo si è uscita mettiamo il caso che eh entrambe hanno eh pareggiato per uno a uno due pari tre pari in questo caso abbiamo preso la combo 4 cioè x più gol della partita 1 con x più gol della partita 2 e ci dice che avremo guadagnato ragazzi guadagnato netto eh netto 32 euro e 57 ok quindi in realtà la bolletta sarà stata di 41 euro e 57 è chiaro nel caso che oh come come al solito le cose non sono andate come noi speravamo perché una delle due partite ci è saltata perché una delle due squadre non ha segnato perché la squadra fa la squadra fuori casa ha vinto ok dovremo passare chiaramente a cosa allo step 2 quindi qui metteremo nuovamente un no ci è andata male chiaramente qui metteremo in attesa perché dobbiamo aspettare ovviamente l'esito delle nuove partite quindi qui metteremo le nuove due partite ok metteremo Lazio o Verona va bene non lo so Liverpool parceler ok quindi avremo dei nuovi coefficienti questo sarà pagato a 4.65 questo sarà pagato a 3.8 e questo sarà pagato a 4.7 facciamo un esempio così ok crea nuovi coefficienti qua oggettivamente è questo il nostro lavoro cioè capire se i coefficienti che poi appaiono moltiplicati ovviamente per l'investimento vanno a creare un utile e vanno a coprire anche i gap precedenti ora siamo su questa colonna no abbiamo messo in attesa step 2 ok vediamo quello che succede lui già ci avverte che al momento siamo fuori di 18 euro chiaramente su questa stringa perché sono le 9 dello step 1 e le 9 dello step 2 perché ci dice nuovamente di ripuntare le stesse identiche cifre non dobbiamo aumentare l'investimento gli ammortizzatori esistono per questo motivo cioè prima di arrivare a un aumento di investimento dobbiamo cercare di tamponare il più possibile perché questo ci permette nel medio e lungo periodo ovviamente di chiudere ok andiamo avanti lui in questo caso metti che ci è andata bene no entrambe le squadre hanno vinto le squadre in casa hanno vinto però per 2 a 1 e una per 2 a 1 e una per 4 a 1 quindi comunque avete preso l'uno e il gol di entrambe le squadre all'interno della partita cosa ci dice dice ok hai preso questa combinata eccola qua la combo 1 del secondo step avrai ottenuto un utile utile di 27 60 cioè lui qui è già calcolato che ovviamente quando ritirate la bolletta che avete vinto e la somma è più alta perché sarà comprensiva anche di 18 euro di investimento ok quindi in realtà sono 45 e 60 di guadagno toglieteci le 9 euro le 9 euro ovviamente lui dirà guarda che vi trovate in tasca pulite rispetto al giorno prima 27 60 va bene come al solito se le cose dovessero andare male voi mettete un no e proseguite con la terza bolletta notete che anche qui ci chiede sempre gli stessi importi qui ci chiede sempre gli stessi importi cioè è stato creato un progetto al fine di ammortizzare veramente le perdite ora guardate qua in questo caso qui ci dice allo step 4 che comunque se chiudiamo su tre combe su tre combo su quattro saranno in attivo una sarà un passivo di 0,66 ora detta tra noi ammette perde 0,66 una volta però quando poi prendi guadagni 36 28 26 34 25 17 8 va bene però nel caso che invece voi dite no non ci sto mettiamo no qui mettiamo che stiamo in attesa ok e scopriamo che vinciamo finalmente ma vinciamo con la combo 3 giustamente voi avete chiuso perché avete vinto avete vinto cioè noi dobbiamo vincere una volta qua non è che dobbiamo vincere due volte di seguito a step come altri video qui una volta che vinci chiudi però in questo caso che c'è scritto che noi abbiamo avuto una gap finale di 66 centesimi calcolate che il software lavora in modo tale che non uscite mai oltre un euro due euro 60 centesimi questo sia ben chiaro quindi rispetto alle proporzioni di chiusura ci rientrate alla grande però in questo caso cosa accade voi prendete questo 0,66 e lo mettete qua 0.66 va bene ce l'avete segnato semplice no guardate lui già qui che va messo lui fa un calcolo in eccesso in questo caso vi ha messo 10 prima c'era 9 no abbiamo fatto 2 più 2 più 2 più 3 dice no no max guarda che hai 66 possiamo anche farlo così se volete attenzione lo mettiamo preciso guardate ecco qui avete sempre quello preciso quello iniziale potete fare i 9 euro più le 66 centesimi della storia precedente qui chiudiamo mettiamo tutti no ovviamente ripuliamo tutto e ricominciamo da capo ricominciamo dallo step 1 con un nuovo investimento sapendo semplicemente che quando chiuderete non saranno 9 euro di investimento ma saranno 9 e 66 che tanto andranno essere decurtate da qua va bene quindi avrete sempre l'utile vero vero quando termina tutto in attivo questo è un video che quello vedete forse semplice ma non è semplice ora ripuliamo un attimo questa cosa ok rimettiamo lo zero qua bene ci interessa apposto così risalviamo tranquillamente e andiamo qua sotto noterete che 10 step sono tanti ragazzi cioè non riuscire per 10 volte di seguito a prendere una combo è veramente tanto questo però vi fa vedere è il motivo per cui anche a pagamento perché francamente ci sono tanti neofiti anche iscritti con noi no tanti che hanno anni di esperienza tanti che stanno al primo approccio ora a prescindere dal fatto che è a pagamento per giustamente anche col fattore professionale io sono tutti i profi professionali i lavori che faccio io se non fosse per i calcoli matematici e per le fatiche enormi e per le verifiche però ce ne sono alcuni dove la abnegazione è talmente tanta che è giusto che sia così penso no è normale che ogni tanto deve esserci questo questa fonte anche di rientro se no è chiaro chiudiamo baracca e burattiri andiamo tutti a casa vi faccio vedere però che per poter stare tranquilli mettiamola così su questa tipologia di investimento dovete avere da parte queste somme 213 euro ok se non avete un bankroll di 213 euro lasciate perdere va bene lasciate perdere non ci perdete tempo sicuramente un sistema io già l'ho provato io ieri e l'altro ieri in questo caso ho provato nella prima nella prima giocata ho chiuso lo step 2 nella seconda giocata ho chiuso lo step 3 quindi ci ho avuto fino adesso una fuoriuscita massima di 27 euro ok è stato in questo caso e poi sono rientrato sì ma adesso non mi ricordo però una quindicina erano qua qui mi era andata meglio no vinte già 23 o 24 insomma calcolate che ho incassato 40 euro pulite quindi eh ne è varsa la pena partendo con investimenti da 2 euro e poi è chiaro che se uno è matto ma non è matto eh c'ha le possibilità per me può partire pure da 10 vi faccio notare un'altra cosa importante eh investimento 2 totale investimento massimo questo è il massimo non è che qui dovete investire 213 euro chiaramente questo è tutto quello che avete investito calcolato su tutti gli step ci mancherebbe eh eh noterete che la è leggermente oltre il 100 volte l'investimento basico avete messo 2 è uscito 200 e poco più eh ed il calcolatore ragiona proprio in questo modo come proporzionale faccio un esempio se adesso metto 5 voi sottotroverete 500 e poco più guardate vedete se io metto eh 10 voi troverete 1000 e poco più quindi eh non è che sono fatti a caso questi calcoli eh eh ragazzi questi calcoli sono fatti in modo strutturato ammortizzato con delle equazioni dei rapporti delle percentuali non è uno scherzo eh quindi capite bene eh che è un prodotto buono dubbiamente quindi allora ragazzi chiudiamo così per contatti e richieste sempre scommesse matematiche tv chiocciolacimei.com per donazioni o acquisti c'è la paypal sapete bene che è il lupo bianco 1 2 3 4 chiocciolacimei.com oppure si può fare una donazione o un acquisto tramite visum alla ing direct che è il conto di scommesse matematiche in questo caso dove vi chiedono ovviamente con visum un cellulare che ovviamente avrà il prefisso più 34 perché sapete che io vivo alle canarie eh c'ho una scheda spagnola ovviamente quindi oppure il bonifico ovviamente con tutte le direttive del bonifico il BIC e via ok io vi auguro come al solito una buona giornata eh chi ha piacere di acquistare questo sistema come al solito faccia delle simulazioni assolutamente sempre sempre simulare va bene e poi passi all'attacco ci aggiorniamo nei commenti eh qualsiasi cosa nei commenti o per mail qualsiasi dubbio scrivete e io lo sapete nell'arco di 24 ore fino adesso nell'arco di 12 eh spero di continuare a riuscirci eh vi rispondo ci mancherebbe va bene un abbraccio braccio grande da scommesse matematiche da Max Matt